allora raccontami un po' subito si vede delle rifiniture spaziali cioè sei veramente un chirurgo? no sono tante rifiniture spaziali e un'altra roba che bello raccontami un po' parliamo le metabole sono un abete val di fiemme, un abete rosso che nasce vicino al new york colta tutto è una grana molto larga e non se ne trova di bello il nostro dal val di fiemme secondo me è stupendo è un abete ronda, è cresciuto in due posti diversi la tastiera è in palessandro brasiliano io non metto più levano perché palessandro brasiliano vivrà di più fondo e fasce sono in palessandro brasiliano questi sono quattro pezzi quelli che vedi qua eccolo qua si l'ho visto e le meccaniche dopo averne provate diverse sono le migliori del mondo non c'è non c'è non c'è paragone comunque sei parlando e già vibra cioè solo che ci parli già vibra va allora il corde cos'hai messo? 12 luisero sempre perché 13 non la mette quasi nessuno 13 se uno me la chiede io li devo pensare la chitarra cioè questa qua questa qua ha una catenatura che va bene per le 12 è bella sulle pezzi è bella sulle pezzi è bella sulle pezzi e se vedi questa uguale ma col fondo in due pezzi più bello io ne avevo fatta una spettacolare ma fuori dal resto io l'ho comprata uno che ha già un'altra mia chitarra io di queste qua ne ho fatte tre o quattro è bella sulle pezzi è bella è bella è bellissima sia sui bassi dei passi molto profondi ma e cantini che non vengono non rimangono in indietro sono molto presente allora a me è quello che piace chiaramente le martini quando tu le suoni qua va tutto in risonanza a me non capita capita molto niente e poi io prendo sempre riferimento martin perché la martin è la martin cioè come dire Sanremo e Sanremo la martin è la martin i cantini di martin sono duri questi sono argentini ma non sono duri e poi e poi e poi e poi e poi e poi proprio tanto eh come volume come ampiezza di di frequenze armonia è bellissimo è bellissimo anche punch e poi 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 mi piacciono molto questi martin 073 come come ibrido per fare un po' tu come ibrido per fare un po' tu come ibrido per fare un po' tu e poi e poi e poi il Grazie a tutti.